Non si aspettava una dichiarazione come quella del Presidente della Camera FICO riguardo il Consiglio Comunale che deve durare 5 anni, magari anche un po' in contrasto con l'intenzione dei consiglieri 5 Stelle in Consiglio? Mi sembra una dichiarazione di buonsenso alla fine, poi devo dire la verità visto che mi fate la domanda, se io voglio rubare il mestiere all'opposizione perché sono maggioranza e sono sindaco di Napoli per fortuna, se io facessi parte dell'opposizione ma ricostruirei una bella mozione di sfiducia nei confronti del sindaco del quale non condividono nulla, ma approfittare di una vicenda che non ci voglio ritornare, insomma non è stato un esempio di luminosità politica nel nostro territorio, invece di dare la solidarietà magari al sindaco che mi sembrava essere un po' il bersaglio di tante cose si vuole approfittare, quindi la risposta sarà di nettezza, di compattezza e di respingimento di una mozione di sfiducia di un'opposizione che finora di costruttivo veramente ha fatto ben poco, quindi noi ci abbiamo alla fine del mandato, governiamo nell'interesse dei cittadini, sono stato votato non per fare cospirazioni o per ascoltare all'infinito il nulla mischiato a niente di alcuni componenti dell'opposizione e quindi cercherò come abbiamo detto adesso di spendere H24 tutto il mio tempo fino a giugno 2021 esclusivamente nell'interesse della città che amo, la città in cui vivo e la città in cui sono stato votato per seguire unicamente l'interesse dei cittadini, quindi non sono preoccupato, affronteremo anche questo passaggio, saremo più forti di prima e anche le scelte che farò nelle prossime ore dimostreranno come sto guardando lontano.